Piatto! La palla! Il primo incontro, Gesù paga la mano a sua madre Maria, Gesù paga la mano a la Madonna, la mano, Gesù paga la mafia. Il secondo incontro, la Madonna paga il piede a Gesù, la Madonna paga il piede a Gesù, la Madonna paga il piede a Gesù! Bossa! Bossa! A dare! Viva Moderna! A tu dai! A tu dai! Gesù, vada in piedi a sua madre Gesù, vada in piedi a sua madre Maria, via Via, via Vada in piedi, andai Gesù, sei con il segno a Maria Ultimo incontro, Gesù e Maria si abbracciano Come madre e figlia, via Perché? Perché? E poi ci guida E io proprio Losi E qui? E qui? Che ne putemo e ieri ora? Buena 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 Non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo.